Prof. Doni, quando nasce storicamente l'idea di Expo, di Esposizione Universale, e quando è stata la prima edizione di Esposizione Universale? Esposizione Universale nel senso stretto, che significa un'esposizione enciclopedica, che parla di tutte le forme di progresso dell'umanità, nasce a Parigi nel 1855, quando il regime di Napoleone III, in risposta alla grande esposizione industriale che si era tenuta a Londra nel 1851, inaugura questo nuovo modello di grande festa del progresso. Nel 1906 Milano ospitò una prima edizione di Esposizione Universale, che era l'Esposizione del Sempione. Possiamo fare un parallelo tra quella edizione e quella che stiamo per ospitare dal 1 maggio 2015? Le esposizioni ottocentesche, di cui Milano 1906 fu in qualche modo il canto del cigno, erano delle Olimpiadi dell'innovazione, con veri e propri medaglieri. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le esposizioni hanno preso più un carattere tematico, che si incentrano su degli argomenti di valore etico-sociale. Le differenze sono quindi moltissime tra Milano 1906 e l'Expo imminente del 2015. Quella era intanto un'esposizione varata dal Comune di Milano, che voleva celebrare l'apertura della Galleria Ferroviaria del Sempione, mentre l'Esposizione Universale del 2015 è incentrata sul tema dell'alimentazione, un bellissimo tema. La prima esposizione voleva essere una grande mostra internazionale delle trasporti, e poi poco a poco è diventata un'esposizione universale. Se dovessimo indicare le esposizioni più significative che ci sono state nella storia delle esposizioni universali, quali potremmo segnalare? La prima del 1851, Esposizione Internazionale dell'Industria di Londra, perché il suo Crystal Palace è diventato il modello del grande edificio espositivo da conservare. L'esposizione natura Eiffel, Parigi 1889, centenario della rivoluzione francese, e nel Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella di Bruxelles del 1958, di cui rimane come monumento simbolo l'Atomium, perché si pensava all'energia atomica come una grande risorsa energetica per la pace e per il benessere dell'umanità. E poi l'esposizione di Montréal del 1967 ha varato la tematica ecologica, che si intitolava Terre des Hommes in francese, la terra degli uomini. A che cosa servono le esposizioni universali? Probabilmente non servono a nulla di concreto, ma hanno una fortissima valenza simbolica. Prendiamo proprio il monumento più rappresentativo della storia delle esposizioni universali, è la Tour Eiffel. A che cosa serve? A nulla. È una magnifica realizzazione dell'uomo che scala il cielo, da cui guardare lontano, ma non ha una funzione. In realtà è simbolica, ma la valenza simbolica e culturale, dare dei sogni all'umanità, creare ogni tanto delle illusioni di pace e di collaborazione mondiale, probabilmente serve tanto quanto l'economia, la politica e l'industria.